La Regione Marche è impegnata in tantissimi corsi di formazione perché sono un viatico fondamentale per l'accrescimento professionale di tante persone e per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro. Questo è un corso molto particolare perché è rivolto, già il titolo dice, giardinieri d'arte per giardini e parchi storici. Noi abbiamo sui nostri territori, e qui a Villa Caprilen abbiamo una testimonianza diretta tra le più belle o la più bella se vogliamo, di questi territori e di questa Regione. Noi formiamo con questi corsi delle persone professionalizzate per poter far sì che queste ville storiche, giardini storici, parchi storici, siano non solo ben curati come ovviamente lo sono anche attualmente, ma diciamo così ulteriormente valorizzati per poter accogliere nel miglior modo possibile i visitatori, turisti e altri, ma al di là di questo anche proprio dare ancora un senso più culturale e storico di quello che sono questi giardini. Quindi ecco, incentivare assolutamente l'interesse verso questi luoghi che sono un viatico non solo di bellezza, arte e cultura, ma anche di potenziali turismo e tanti visitatori. Come del resto vediamo anche oggi stesso qui a Villa Caprile. Quindi sono usciti i bandi, un impegno per formare 96 operatori nella Regione Marche, un impegno con fondi PNRR di 600 e passa 1.000 euro, è un impegno che come Regione Marche stiamo portando avanti.